Chissà davvero come farvi scendere in pista è mio fratello Andrew, o dovrei dire il re della festa. Va bene, è così carino, è davvero bello. Mamma, se lo vedono finisco nella lista dei ricercati. Non riesco a credere che il college sia finito. Hai un lavoro adesso o...? Non ci è concesso parlare di lavoro al bat mitzvah? Quindi o non lavori o fai un brutto lavoro? Secondo te quanto viene pagato un animatore? Faccio un brutto lavoro, sì. Tesoro, non lo dico solo perché sono tua madre, ma mi sembra che tu sia molto avanti nel gioco. Chi sono? Sono una madre e sua figlia. Voi due ballate? Non ce la sentiamo adesso. Scommettiamo 300 dollari che la porto in pista? Ti darò 1000 dollari. Le piace davvero. Anche a me piace. Stanotte è la notte in cui tu e Lola vi scatenerete. Oh, non so fare il moonwalk. Sarebbe un buon babysitter per te. Non vado d'accordo con il babysitter, ma credo che potrebbe essere un po' diverso con Andrew. Vuoi conoscere il mio cricciato? Sì. Voglio ringraziarti per essere così gentile con Lola. La cosa più facile del mondo. Mi diverto più ora di quanto non abbia fatto tutta la sera. Hai un marito? Ho un fidanzato. So che sei un bravo animatore. E tu sei un fantastico avvocato professionista. La vita si complica dopo il college. Dare il tuo cuore a qualcuno è la cosa più sconcertante. Non puoi decidere di amare qualcuno. Sì che puoi. No, non puoi. Sì che puoi. Non ci servirai più come babysitter. Perché? Per tante ragioni. Sei ubriaco, figlio? È tutto un gran disastro. Diventare grande è difficile. È la tua anima gemella? Tu credi nell'anima gemella? Io credo che abbiamo moltissime anime gemelle. Quante anime gemelle? Per te credo quattro. Per te quante ce ne sono? Tipo dodici mila. SONO Grazie a tutti.